Sì, cosa pensi sull'Italian musica? Oh, conosciamo molta musica italiana perché mi ricordo quando ero un figlio che mia madre sempre ascoltava l'Italian musica e non capisce niente in Italia e mi ricordo quello Che cosa riguarda la tua canzone, la tua discoteca? La nostra canzone non è in italiano ma spero che ogni persona nel mondo comprendere questo e faremo con la nostra musica perché vogliamo che le persone si riusciano perché quando riusciano si riusciano e questo è davvero buono per la sua mentalità e la sua salute e la sua salute So, be healthy and dance! Let's discotec!